Hanno comprato cucine, camerette e tanto altro, prima che la mercatone 1 chiudesse i battenti. Alcuni hanno anche pagato a conti e firmato finanziamenti. L'esercito degli scontenti per il fallimento della Shernon Holding SRL non si ferma ai dipendenti rimasti da un giorno all'altro in mezzo alla strada e neppure ai creditori. Ci sono infatti anche tanti clienti rimasti ad oggi con un pugno di moschi in mano. Per cercare di trovare una soluzione alle problematiche dei clienti ci siamo rivolti all'associazione dei consumatori Robinhood per farci spiegare cosa fare in queste situazioni. Sono tantissimi consumatori che ho pagato per intero, ho dato degli anticipi per quanto riguarda gli acquisti e adesso si vedono non arrivare la merce né tanto meno i soldi. Bisogna attivarsi, bisogna subito attivarsi, non siamo a disposizione perché occorre entrare nella procedura fallimentare come creditori chirocrafari e quindi non come creditori privilegiati. Ricordiamo che i creditori privilegiati sono lo Stato e i lavoratori con la speranza che appunto si ottenga un risarcimento. Questa azione tra l'altro è anche necessaria laddove la questione si risolva si trova in altre strade perché in pratica si trova già avvantaggiati nella richiesta del credito. Ogni giorno chiaramente c'è un crescendo perché man mano che si apprendono notizie sulla stampa di questo fallimento chiaramente si pone il problema. Dico ma io per recuperare questi soldi cosa devo fare e quindi abbiamo già circa 12 casi negli ultimi due giorni. La cosa assurda è che è stato dall'oggi al domani? Un po' tutte le cose assurde ma noi ormai siamo allenati in Italia mi sembra che questa cosa sia una costante, quella di società che vengono salvate e poi non è così. Addirittura pare che in questo caso la direzione aziendale aveva invitato proprio con saldi a svuotare i magazzini perché dovevano poi riempirli con merce nuova e invece svuotavano per fare cassa. Quindi è ancora più colpevole in questa circostanza l'atteggiamento di coloro che devono salvare l'azienda.